Da questa mattina circa 140 dipendenti della Morgan Carbon Italia SRL di Martinsicuro, azienda multinazionale inglese produttrice di anelli di tenuta per pompe idrauliche e materiali speciali, come annunciato hanno intrapreso lo stato di agitazione con astinzione dal lavoro dopo la rottura della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo aziendale. Una decisione presa dal RSU su un mandato ricevuto dall'Assemblea delle lavoratrici e dei lavoratori riunite il 18 maggio, al centro della discussione in particolare l'adeguamento del premio presenza. La questione del rinnovo del premio presenza ha registrato una distanza piuttosto evidente tra le richieste sindacali e la risposta dell'azienda, ragion per cui a quelle condizioni la trattativa non aveva più sbocchi, quindi adesso parte la protesta e poi si vedrà su quel punto se l'azienda è in grado di recuperare un terreno di discussione. Ovviamente andrete avanti fino a quando non ci saranno delle risposte, anche se lo sciopero è stato proclamato fino al primo di giugno. Sì, per il momento ci sono queste due ore di sciopero su queste quattro giornate, è chiaro che se l'azienda ci chiamasse al tavolo magari andremo a sentire, però per il momento segnali non ne abbiamo visti. Ma alle azioni sindacali dei lavoratori della Morgan Carbon si stanno aggiungendo anche le manifestazioni di disagio dei lavoratori della società Centrogest che lavorano per alcune fasi produttive e per l'erogazione di alcuni servizi per conto della Morgan Carbon, per i quali sono in corso specifiche iniziative sindacali promosse dalla Federazione Sindacale di Settore, Filcamps GGL. Problematiche che vanno avanti da tempo e che non possono continuare, lo abbiamo detto, non è normale che all'interno dello stesso posto di lavoro ci siano trattamenti totalmente diversi, discriminazioni anche che vanno avanti rispetto anche al sesso delle lavoratrici, riperoporto perché ci sono diverse lavoratrici donne con questo appalto che vengono discriminate rispetto a pause, a orari, rispetto agli orari degli uomini, quindi è una cosa che non può continuare, lo abbiamo detto e lo stiamo mettendo in campo.